Nei numeri, naturalmente, le differenze di libri salta all'occhio per quanto riguarda noi, poi per il resto, ragazzi, io vi dico la verità, in tanti anni mi sono abituato, e soprattutto giocando in trasferta, che meno ci si occupa degli arbitri, e soprattutto in un campo caldo con le polisparci. Quindi, io personalmente smetto di pensarci, perché tutte le volte comincio a pensarci, poi parlo fino, quindi questo è un problema. Però naturalmente, so dove vorrebbe arrivare la domanda, forse di farlo più a Enzo.